Un appartamento di quasi 150 metri quadrati in una torre iconica di Dubai magari in pronta consegna con pagamento in due anni Andiamo a scoprirla insieme Diciassettesimo piano, benvenuti Una modernissima cucina con vista sul living room da fare invidia a Masterchef Ed eccola la living room alta più di tre metri Una spaziosissima Master Bedroom con accesso ai doppi balconi E nella Master Bedroom non può mancare il bagno padronale Altro che cameretta, una fantastica camera da letto per i vostri figli Bagno incluso anche nella cameretta Infine uno spaziosissimo balcone Curiosi della piscina e palestra? Andiamo! Una piscina a dir poco olimpionica E anche piscina per bambini riscaldata e addirittura con idromassaggio Ed infine una palestra super accessoriata E dopo la palestra, prima di farsi la doccia Sauna e bagno turco Piaciuto vero? Il prezzo 900.000 euro Ma lo prendiamo con il 40% E il resto dilazionato in due anni Interessati? Info. www.greeninvestubai.com E voi investireste nella torre più iconica di Dubai? Scrivetelo nei commenti! www.greeninvestubai.com